Allora, Stefano Fradini finalmente una prestazione solita da parte del cotinista Ebbano Gomm che come al solito ha giocato una grande partita per possesso palla, per occasioni c'è stato anche un grande galassi che ha più volte negato il gol agli avversari alla fine, a differenza di come era successo invece la settimana scorsa contro l'Italia non è arrivata la rimonta e quindi c'è stata anche un po' di scaramanzia quando c'è stato il gol del 3-1 della Pisana Beh sì, diciamo per fortuna abbiamo fatto tre gol stavolta e non soltanto due e noi quando giochiamo con queste grandi squadre riusciamo ad avere sempre una concentrazione maggiore cosa che a volte purtroppo ci manca quando giochiamo con squadre che sembrano un po' più abbordabili volevamo una prestazione importante per far vedere che la squadra c'è e abbiamo trovato un gruppo molto compatto e era importante recuperare dei punti perché adesso ci aspettano Golbet e Cotton Club quindi diciamo che era molto importante per noi uscire oggi con la vittoria per cercare di affrontare meglio e con un po' più di determinazione le prossime partite perfetto grazie 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 grazie